La vita non è minacciata solo dalle armi atomiche. Oggi la grave minaccia nei luoghi più sviluppati è la perdita del senso dell'esistenza. Nel ripercorrere i momenti forti in Thailandia e Giappone, da dove ha fatto ritorno ieri, il Papa, l'udienza generale in piazza San Pietro, indica la questione decisiva per l'uomo. Per proteggere la vita bisogna amarla. E oggi la grave minaccia nei paesi più sviluppati è la perdita del senso di vivere. Le prime vittime del vuoto del senso di vivere sono i giovani. Perciò un incontro ad occhio è stato dedicato a loro. Ho ascoltato le loro domande e i loro sogni. Li ho incoraggiati ad oporsi insieme a ogni forma di bullismo e a vincere la paura e la chiusura, aprendosi all'amore di Dio nella preghiera e nel servizio al prossimo. Oltre agli incontri con la comunità cattolica, il Papa richiama anche la visita all'imperatore Naruito e le tappe di Hiroshima e Nagasaki con la ferma condanna delle armi nucleari e dell'ipocrisia di parlare di pace, costruendo e vendendo ordigni bellici. Della Thailandia ricorda la visita re al patriarca supremo dei buddisti. Ho incoraggiato, dice, l'impegno per l'armonia tra le diverse componenti della nazione, come pure perché lo sviluppo economico possa andare a beneficio di tutti e siano sanate le piaghe dello sfruttamento specialmente delle donne e dei minori. Dalle sue parole emerge una forte gratitudine per questi due popoli. Dio li benedica, conclude, con abbondanza di prosperità e di pace. Grazie. Grazie. Grazie.